Celebrata anche in Sicilia la giornata mondiale del rifugiato che da oltre 15 anni punta l'attenzione sulle istanze e richiedenti asilo, ospiti nel nostro paese, da Lampedusa a Catania dove si è tenuto un incontro di calcio fra studenti delle scuole, immigranti, ospiti e centri di accoglienza, la manifestazione promossa alla comunità di Sant'Egidio dalla Fondazione Mondo Digitale con la collaborazione di Microsoft che ha sostenuto un progetto per sostenere diverse realtà.